Cari compagni, se la montagna non va, ma ometto e ma ometto che va la montagna. Affrontiamo il problema. Facciamo così, Tom. Io lo vado a chiesa. Vai tu che io ho le stampelle e ci metto più tempo. Aspettiamo la presidenza qua. Voi però chiediamo di metterci all'ombra, raga. Stiamo chiedendo a un componente della presidenza di venire fuori e discutere con noi la possibilità di leggere il nostro documento dentro, però leggerlo noi. In ora avete trattato con qualcuno? Dicevi prima che avete parlato con Scalfarotto della presidenza. Cosa vanno risposto? C'è una risposta che inizialmente si depositava il documento, adesso chiediamo alla presidenza di leggerlo, intanto la lettura è veloce, quindi non prendiamo mai risposto. Ma non vi fanno entrare in assemblea? Non tutti. Noi siamo entrati nella delegazione per capire se potremmo entrare tutti o meno e ci ho detto di no. Quindi adesso ridiscutiamo questa cosa. E giudicate grave questo impedimento? Giudichiamo di difficile comprensione. Di difficile comprensione. Qua ci sono 40-50 persone che vogliono entrare e vogliono partecipare ai lavori dell'assessore.